ciao ragazzi buona giornata dal vostro bandito rosso nero oggi difendo carlo pelegatti pollicione se vi piace il video iscrizione se vi piace il canale campanella per le notifiche se avete qualche amico qualche parente qualche cuore rosso nero a cui volete consigliare l'iscrizione al canale a bandito rosso nero io vi ringrazio ma vi ringrazio a prescindere perché siete qui ascoltare il mio video quindi perché carletto pelegatti perché oggi ho aperto twitter ma quante le ne stanno dicendo e mi chiedevo ma perché cosa ha combinato perché stamattina non ho fatto in tempo a vedere subito non ho visto subito allora sono andato ho detto cosa avrà mai detto mamma mia allora ragazzi carletto un cuore rosso nero grande come una casa ha detto semplice mi ha voluto enfatizzare un po quello che si sa che praticamente che in dubbio girù per sabato ma questo si sapeva perché ovviamente il milano rischerà nulla sul giro è ovvio è giusto quindi se sarà al cento per cento giocherà se ci sarà solo un minimo rischio starà fuori ma questo è giusto che sia così l'ho detto anche stamattina nel video per quello sto cercando di tenere bello carico ante revici e spero che mi seguiate su questa cosa perché ante ha bisogno di sentire dietro di sé la spinta del pubblico la spinta del tifo la spinta deve sentirsi importante anche per rendere e quindi siccome probabilmente toccherà ancora lui sabato facciamolo sentire importante per questo io sto spingendo di brutto su su questo aspetto su ante ma torniamo a carletto pelegati quindi stamattina lui ha un po enfatizzato questo per creare un po di attesa sul video che avrebbe fatto il pomeriggio ma non è che ha detto niente di mamma mia così da da essere chiamato terrorista da essere un po insultato anche ingiustamente perché carletto è un vero cuore rosso nero io sono cresciuto con la telecronica di carletto con le esultanze di carletto coi soprannomi di carletto pelegati è un cuore puro carlo pelegati ma puro rosso nero quindi ragazzi poi il fin dei conti scusate a 150 mila persone che lo seguono cioè come due san siro messi insieme 150 mila mica uno è obbligato cioè se lo seguono in così tanti cuori rosso neri ma è perché da delle sensazioni positive poi lui è uno anche del mestiere quindi le cose le le condisce un po modo suo no è una vecchia volpe io non trovo neanche che abbia detto cose stamattina cosa ha detto che gli è giunta voce di un possibile infortunio un po più serio e che l'avrebbe praticamente ha detto che l'avrebbe smentita nel pomeriggio su bastava quindi tutte queste insulti insomma a carletto cuore rosso nero mi spiace che arrivino così tante invettive in sostanza non ha detto proprio una cosa ha creato un po di suspense un po di un po di però ragazzi 150 mila lo seguono vuol dire che hanno piacere di seguirlo qual è il problema uno se è d'accordo è d'accordo se non è d'accordo non è d'accordo se smette di seguirlo smette di seguirlo se vuole seguire un altro segue un altro però non mi sembra così così grave anche perché sta tutto nel nell'anno non è che ha sparato che girù aveva una lesione muscolare ha messo un po di allarme diciamo che poi oggi avrebbe in un modo o nell'altro insomma se venivano smentite dal milan è chiaro che la smentita a quanto pare sta nel fatto che lui ha fatto un personalizzato che a ben vedere insomma non dice nulla perché tutto si deciderà venerdì dalla rifinitura lì si capirà se toccherà a ollie e se posso toccherà a dante l'importante è che chiunque giochi sappia l'importanza della partita sappia che il risultato di domenica può essere decisivo fondamentale per l'arrivo dei posti cede nei posti champions e io auspico ancora che si possa arrivare al secondo posto e lui se non commento mi faceva notare che l'inchiesta intanto su osimè napoli prosegue quindi io scherzosamente scherzosamente non sia mai che ho detto che arrivando secondi ma potremmo vincere la seconda stella di cartone però qua si sa che dovesse succedere una cosa del genere troverebbero il modo di arrivare alla quinta classificata e dare la seconda stella di cartone alla quinta classificata perché qui di cartonati ci sono solo loro anzi scusate se esco un attimo dall'inquadratura io vi ricordo sempre se volete iscrivervi al canale che io qui non ho cugini e chiunque si iscrive a questo canale perché non ha cugini andiamo un attimo all'aspetto tattico della partita loro saranno bassi noi dovremmo fare un pressing stile milan napoli partita d'andata loro hanno i tre dietro che hanno i piedi quadrati tutti e tre perché dovrebbero giocare mancini i bagnet e con bulla almeno che proprio per questo problema che hanno i piedi quadrati dietro potrebbero arretrare cristante anziché mettere con bulla al che diciamo si garantirebbe un po più di impostazione a quel punto di vista ma toglierebbe qualcosa dal punto di vista difensivo quindi avendo loro queste grosse difficoltà a livello di impostazione di gioco sarà importantissimo il pressing il pressing alto il pressing a recupero palla un po andate a rivedervi se vi va il primo tempo di milan napoli è andata lo faccio lo facciamo benissimo al di là del fatto che poi ci fu la traversa ci fu mera e ci fu sbagliati calabria che le ha togliato al girù però in quella partita milan fece un pressing alto fantastico fatto benissimo con loro tre all'impostazione con quei tre dietro lì all'impostazione sarà importantissimo questo fattore il pressing alto anche perché se non riusciamo a fare bene il pressing cosa succede che si chiudono tutti gli spazi e dopo partire con l'azione manovrata e trovare tutti gli spazi intasati rischia di diventare come il primo tempo di domenica con il lecce con loro tutti sotto palla in cui si fa fatica a creare l'occasione da gol molto più facile in questo caso con la squadra di murigno che sicuramente starà bella raccolta dietro crea avere la superiore superiorità numerica dal recupero palla alto cosa che l'anno scorso facevamo benissimo quest'anno l'abbiamo un po più abbandonata per aspettare un po di più e lasciare un po più spazi a lei a oma domenica questo non ci sarà concesso dalla roma quindi pressing alto in questo molto bene ci sarà soprattutto tonali che dovrà fare un bel duello fisico con matic matic e forte fisicamente ma è molto lento quindi anche lì tonali dovrà usare molto bene l'anticipo per cercare anche lì col supporto di cronici e con ben a sera un po più alto di riuscire andare al recupero palla e recupero palla sarà fondamentale recupero palla nella loro tre quarti secondo me da lì potrebbe potrebbe nascere la chiave di volta della partita perché contropiedi difficilmente ce ne lasceranno almeno che non passiamo in vantaggio presto allora a quel punto la partita potrebbe cambiare e si potrebbero aprire degli spazi interessanti per leao e per diaz anche perché diaz anche lui in contropiede è molto veloce molto rapido è difficile da prendere quindi diciamo l'aspetto tattico un po questo dovremo giocare sulla loro sui loro tre difensori che parliamoci chiaro ogni piedi quadrati quindi avranno difficoltà di impostazione cercheranno spesso il lancio lungo ma se noi sapremo pressarli subito bene subito alti andare a recupero palla ecco che la partita potrebbe prendere una piega molto molto interessante anche perché condizione fisica mi sembra che siamo messi bene siamo insomma dico meglio di loro ma mi sembra che noi ci siamo loro non lo so loro bisogna vedere anche molto dipende da se giocheranno giocherà di bala perché di balla è quello che ti sa una volta usciti dal pressing prendere palla e innescare le punte mancasse di bala ecco che diventerebbe difficile diciamo questa loro uscita dal pressing e rifornimento delle punte quindi ragazzi un abbraccio simbolico a carletto pelegati un mi piace se vi è piaciuto il video se siete d'accordo con l'analisi tattica una campanella per le notifiche e ricordatevi iscrivetevi se non avete cugini ciao ragazzi a domani